Lei è un esperto in tecnica per la luce valgo, ci sono moltissime tecniche mini invasive ma qualcuno parla addirittura di tecniche risolutive miracolose tipo il laser. Allora dobbiamo essere chiari perché non si possono dire le stupidaggini o perlomeno illudere le persone con delle tecniche che sono pura fantasia nel senso che il laser non esiste, non esiste il laser per operare perlomeno le ossa e soprattutto l'alluce valgo. Lo sottolineiamo, non esiste il laser, non esiste l'artroscopia per operare l'alluce, esiste l'artroscopia come esiste l'artroscopia per il ginocchio per operare delle patologie della cartilagine dell'alluce ma non esiste assolutamente l'artroscopia per operare l'alluce valgo. Negli ultimi anni qual è stato il valore aggiunto della chirurgia e della fusione tra la tradizione, la tecnica tradizionale e l'innovazione? Allora a me non piace dire tecnica tradizionale e tecnica moderna perché non esiste, ci sono delle tecniche chirurgiche che sono più o meno standardizzate e che hanno una loro validazione nel tempo, considerai che per operare ad esempio il solo alluce valgo esistono 100 e passa tecniche chirurgiche, è chiaro che non usi tutte 100, le tecniche chirurgiche devono essere individuate per quel tipo di paziente, per quel tipo di patologia. Diciamo che tutte le tecniche normalmente quelle più usate quindi che hanno una validità nel tempo nel senso che nel tempo si è visto che danno i migliori risultati poi alla fine sono 6-7. E' chiaro che non esiste il miracolo, noi cerchiamo di curare e difficilmente possiamo guarire quindi non siamo dei guaritori, noi cerchiamo di aiutare e quindi curiamo. Dobbiamo considerare che per correggere una patologia dell'alluce ecco qual è il laser, cioè non è il laser ma la tecnica percutanea o cosiddetta mini-invasiva usa delle frese che sono delle frese che usano anche i dentisti per curare le carie con le quali chiaramente viene tagliato l'osso. Immaginate però di tagliare l'osso senza vedere quello che fate e come dico a un sarto mi faccia loro il pantalone senza vedere e prendere le misure. Con la tecnica, un'altra tecnica che non mi piace definire tradizionale, l'osso si sega con la sega, si vede dove si va a segare, si è precisi. Noi che cosa abbiamo fatto? Chiaramente abbiamo fuso le due tecniche, quindi abbiamo ridotto quelle che sono le cicatrici chirurgiche, abbiamo ridotto i tempi della stessa chirurgia e quindi abbiamo ridotto i tempi del recupero post-operatorio. Questa è una tecnica che noi definiamo mista. Noi usiamo dei mezzi riassorbibili, quindi non si vede assolutamente niente, non c'è bisogno di ricorrere alla chirurgia per togliere questi mezzi di sintesi, quindi il paziente non vede assolutamente niente, oggi si opera, oggi stesso cammina e cammina con una scarpa speciale post-operatoria che deve tenere per circa un mese.